buona giornata amici da massimo foghetti oggi giovedì 20 ottobre 2022 questa è la rassegna stampa di fano tv leggeremo insieme i giornali come tutte le mattine a partire dal Corriere Adriatico e il resto del Carlino sulle pagine locali iniziamo la giornata sotto gli auspici del santo del giorno vediamo chi si festeggia oggi ce ne sono diversi dei santi ma oggi abbiamo scelto una santa particolare molto conosciuta dalle nostre parti devo dire Santa Maria Bertilla Boscardin questo è il nome di questa suora era una suora santa italiana come si evince dal nome nacque a Brentola nel Vicentino nel 1888 si fece suora entrando nella casa madre delle suore Dorotee di Vicenza poi fece l'infermiera e si distinse in modo particolare durante la prima guerra mondiale prestando servizio nell'ospedale di Treviso mentre la città veniva bombardata ebbene fece l'infermiera mostrando una carità eroica così definiscono le cronaca del tempo le sue cure furono una benedizione per tanti malati quindi una suora che si distinse per il suo impegno di carattere sociale oltre che a quello religioso vediamo anche le previsioni del tempo il sole nel frattempo sorgerà alle 7.28 e tramonterà alle 18.17 e per quanto riguarda invece le condizioni del tempo vediamo che il clima mite persiste in questo autunno che i climatologi definiscono un po' anomalo giornata in prevalenza solleggiata su tutta la regione al più ci sarà qualche velatura in serata le temperature si gireranno tra i 14 i 21 ma anche qualche grado in più 22 23 gradi e i 20 sulle coste spireranno da una direzione di sud est nell'introterra da est e sud est e il mare è mosso c'è un certo alito di un alito di vento che muove le onde per quanto riguarda la superficie del mare apriamo oggi il resto del carlino vediamo l'apertura dedicata alla crisi economica che investe anche la città di fano vetrine al buio il centro si spegne ora c'è un problema anche di sicurezza non solo così di di estetica per quanto riguarda il la città murata di fano è l'allarme della confesercenti ne parla il segretario della concert della confesercenti di fano matteo radicchi i rincari spingono i commercianti e i titolari di attività ridurre i consumi quindi coloro che erano abituati a restare aperti anche di sera così alimentando rendendo più bella la passeggiata dei fanesi e ora chiudono i battenti per questo modo si rischia la desertificazione ha detto radicchi gli esercenti allargono le braccia o così o si chiude dicono in maniera fatalista saracinesche chiuse vetrine spente il caro energia mette sempre più in difficoltà il commercio fanese e costringe bar e ristoranti a chiudere prima è un ottobre veramente strano quello che si respira quest'anno in centro storico dove alle 21 e 30 dice il resto del carlino sembra suonare il coprifuoco insomma non c'è nessuno più in città e poi a fondo pagina vediamo invece alcuni incidenti che si sono verificati nella rotatoria di sant'orso è un incidente strano quello che si è verificato perché è stato è stato un incidente conseguenza di un altro incidente che cosa è accaduto è accaduto che secondo una prima ricostruzione un automobilista che percorreva via soncino con direzione mare quando è giunto in prossimità della rotatoria ha investito un ciclomotore che lo precedeva insomma è stato un tamponamento il centauro è stato portato al pronto soccorso di fano in codice giallo non era grave mancavano pochi minuti alle 8 quando poi un altro incidente si è verificato perché una Toyota Corolla condotta da un uomo di origini marocchine di 52 anni residente a Fano è giunto alla rotatoria e cosa ha fatto ha investito l'auto della polizia fermo a bordo della strada dove c'era anche un agente a bordo che si è visto piombare addosso l'auto del marocchino per fortuna questo secondo incidente non ha determinato feriti tutti sono rimasti in lesi soltanto danni ai mezzi vediamo qualche altra notizia per quanto riguarda Fano e vediamo che c'è un episodio di cronaca giudiziaria fanno sesso a una festa da amici lei lo denuncia mi ha drogato e si è svolta ieri al tribunale di pesaro un'udienza preliminare sul banco degli impiccati un trentenne di Fano che nega la violenza la ragazza invece è certa di avere bevuto qualcosa che l'ha resa incapace di reagire e si è costituita parte civile secondo la difesa il rapporto è stato consenziente si scambiarono addirittura messaggini affettuosi il giorno dopo però c'è una richiesta di danni di 20 mila euro per la ragazza non ci sono dubbi sulla sua contrarietà ad avere un rapporto sessuale col trentenne il trentenne dice la ragazza era da tempo che le faceva la corte lei l'aveva sempre rifiutato ma durante questa festa è successo qualcosa di particolare lei è stata annichilita cioè stata privata della sua volontà un po così in uno stato un po evanescente così lo possiamo definire e poi c'è stato questo rapporto rapporto che così non sono stati testimoni però insomma sapevano quello che accadeva in quella stanza gli amici che partecipavano alla festa e ovviamente nessuno è intervenuto perché non hanno avuto coscienza della violenza comunque è tutto da decidere nelle mani del giudice e poi in quest'articolo con un fondino scuro si parla si parla di un intervento che avrà oggetto il teatro della fortuna si parla di efficientemente efficientamento energetico rincari energetiche il teatro della fortuna corre ai ripari è una delle situazioni energivore più importanti della città di fano consuma molta energia e quindi si corre ai ripari per cercare di ottenere un risparmio i lavori partiranno entro la fine dell'anno ma il grosso delle opere verrà realizzato tra aprile e settembre delle 2023 durante il quale il teatro sarà inutilizzabile non potendo intervenire sull'edificio storico vincolato dalla sopraintendenza i lavori riguarderanno solo gli impianti che si troveranno nel sottotetto con una sostituzione di una delle due pompe di calore con un apparecchio di nuova generazione insomma più efficienza e più risparmio per quanto riguarda il teatro della fortuna e poi vediamo come per quanto riguarda l'impianto agri voltaico di carrara scoppia la bagarre sui social ebbene la società la TEP Renewables accusa il consigliere regionale Sir Filippi che è stato un firmatario di una proposta di legge per delimitare le aree in cui possono sorgere questi impianti che sono un po' impattanti un po' insomma anche anche molto impattanti per quanto riguarda il territorio dal punto di vista ambientale di non conoscere le norme il consigliere leghista insiste serve una legge che individui le aree idonee ebbene l'accusa che fa la società è quella che si tratta di Montesi della TEP Italia dice che in realtà quello che è in vigore oggi in Italia è anticostituzionale cioè non è non è in sintonia poi nemmeno con le direttive europee l'Italia dovrà presto cambiare le norme che sono in vigore e per questo appunto Sir Filippi non conoscerebbe tutto quello che grava a livello normativo su questa situazione è un dibattito che continua e ognuno mantiene la sua tesi e vedremo poi che fine farà la proposta di legge a livello regionale giriamo ancora la pagina e passiamo a Colli al Metauro e c'è ancora oggi un l'appello della signora che vede così andare all'asta la propria abitazione quindi dovrà essere messa fuori strada e quindi non ha una soluzione alternativa vi prego aiutatemi a comprare la mia casa basterebbero 40 mila euro per acquistarla è l'appello di una mamma di due bambine che non sapeva di vivere in una casa che apparteneva ai genitori che la casa era impegnata e quindi sarebbe andata all'asta purtroppo la data si avvicina e il problema diventa ancora più scottante e poi vediamo che a Colli del Metauro contributi per gli affitti rinforzi del comune sono sempre di più le famiglie che chiedono un aiuto per sostenere il costo dell'affitto della abitazione e per questo l'amministrazione ha deciso di aumentare di 10 mila euro il fondo regionale da 47 mila che di cui dispone nel 2021 erano 108 le famiglie in crisi ebbene 108 che hanno ottenuto un sostegno economico per il pagamento del canone di locazione e quest'anno in considerazione delle difficoltà acuite dall'innalzamento delle spese energetiche dall'incremento dei prezzi di molti prodotti il comune ha deciso di metterci del suo stanziando 10 mila euro in più non è molto ma è sempre un aiuto importante per coloro che si trovano in difficoltà sono sempre più i nuclei che rimangono indietro anche con le bollette ha dichiarato l'assessore mascarucci ad urbino dopo il covid dopo la pandemia e dopo le elezioni in dad questa volta si torna tutti in presenza e le iscrizioni tengono anzi aumentano così come dice il resto del carlino il pro rettore giovanni boccia artieri dice che l'impatto negativo non c'è stato le aule al momento sono piene per questo abbiamo mantenuto un sistema di prenotazione due anni di dad hanno portato grande stanchezza è stato a violento per tutti quel periodo ma ora sembra un così non dico un ricordo ma una cosa da non più considerare il ritorno di lezioni ed esame esclusivamente in presenza non ha avuto un impatto negativo che tanti temevano sulla quota di nuovi matricolati nella università ad urbino anzi i numeri dell'ateneo rivelano una tenuta sostanziale oppure addirittura anche un lieve aumento e quindi l'università va avanti per la sua strada un articolo di cronaca sulla pagina di urbino evidenzia come una cassiera disonesta tra virgolette una cassiera ospedaliera ora deve rispondere alla sbarra del tribunale per aver rubato 30 mila euro è accusata di essersi intascata questa cifra di soldi pubblici il nome viene identificato appunto dal resto del carlino questa signora è imputata del reato di peculato ai danni dell'asur e ora deve rispondere l'udienza si è svolta nella giornata di ieri delle delle sue azioni e nell'ambito di un processo che si trascina ormai da cinque anni pensate quello che è accaduto è accaduto cinque anni fa la vicenda risale al 2015 ma dopo sette anni deve esserci ancora il giudizio di primo grado e questa è la mala non la mala sanità ma è la mala giustizia perché i tempi veramente sono molto molto lunghi e vediamo anche quello che rappresenta il giro d'Italia per Fossombrone non solo per Fossombrone ma per l'intera provincia una vetrina una grande vetrina di promozione per tutto il territorio ed ora vediamo che in questo articolo Alighiero Omiccioli che è responsabile organizzativo appunto della iniziativa evidenzia tutte le bellezze tutte le particolarità che ruotano attorno alla tappa di Fossombrone la tappa del giro d'Italia lo strappo sul colle dei capocini dice farà la selezione dei giocatori quindi dei dei corridori e quindi vedremo i corridori transitare magari anche alla spicciolata così i tifosi potranno riconoscere i loro beniamini diamo un'occhiata anche alla pagina pesarese del resto delle Carlino dove si parla del caro casa abbiamo dei caro affitti del del caro casa ebbene purtroppo sono 100 casi all'anno quello degli sfratti per morosità e qui c'è il racconto dell'ufficiale giudiziario si tratta di Gennaro Franchini che ha in mano uno sfratto da eseguire Gennaro Franchini è incaricato appunto di questa azione che non è certo simpatica però lui la deve fare solo in due occasioni ho chiamato la polizia dichiarato ma prevale l'aspetto umano se posso cerco di trovare un nuovo alloggio alle famiglie sgomberate ovviamente questo incarico non si può fare a cuor leggero anche chi lo fa viene poi coinvolto umanamente psicologicamente comunque una raffica di sfratti a peso è significativa per quanto riguarda l'emergenza abitativa dal primo luglio del 2021 ad oggi c'è veramente un numero importante sono sfratti esecutivi che provengono da oltre un anno di blocco per la pandemia sono sull'ordine di dieci casi al mese un centinaio all'anno in due episodi come abbiamo riferito è stato necessario far intervenire la polizia perché l'inquilino purtroppo esasperato si rifiutava di uscire dalla propria abitazione non sono mai momenti facili ha detto franchini immaginiamo che sia così affitti introvabili pesaro e solo per i ricchi le garanzie ebbene o c'è un o c'è un lavoro statale oppure bisogna presentare una fiduzione abbiamo chiamato quattro agenzie immobiliari dicono i giornalisti del carlino chiedendo informazioni per un appartamento la risposta è stata identica da tutte e quattro centinaia di alloggi anche lontani dal mare sono stati affidati ai booking e ai motori di ricerca turistici che hanno invaso il mercato ebbene cercare una casa oggi non è facile non è facile perché ci volgono le garanzie chi non le ha non riesce a ottenere la fiducia dei proprietari dei appartamenti e quindi occorre una situazione non è certo facile dicono no anche alle aziende che cercano case per i dipendenti in quest'altro articolo a fondo pagina sindacati e presidenti di confedilizia spiegano il loro punto di vista qui abbiamo i due interlocutori Filippo Andreani dell'omonima agenzia agenzia Andreani e l'avvocato Gabriele Belfatto della CGL San Benedetto ebbe questo manicomio che rimane un po' in cielo diciamo così un anno per il progetto e per l'appalto parte il cronometro parte speriamo che veramente parte la data parte il tempo per giungere alla data dell'intervento di riqualificazione di questo grandissimo complesso che si affaccia sul corso di Pesaro da Roma è arrivato l'acconto di 3 milioni di euro per i due progetti Pinqua per la qualità dell'abitare l'accredito fa scattare i termini del PNRR in ballo anche la valorizzazione dell'asse via Mazza via Castelfidardo tra 365 giorni avremo il bando per selezionare la ditta a cui affidare il cantiere un anno ci vuole quindi per così vedere almeno l'installazione di una recinzione che può fare pensare ai lavori in corso ma non si tratta di intervenire su un unico complesso a quanto ha spiegato il vice sindaco Vimini c'è tutto in ballo un gruppo di progetti che interessano diverse aree del centro lungo l'asse via Mazza via Castelfidardo punta alla riqualificazione di varie parti del patrimonio come palazzo Armerici o le residenze per artisti che verranno realizzate in prossimità dell'ex lavanderia del San Benedetto quindi un intervento molto più complesso qua abbiamo ancora un articolo che riguarda il vecchio palace ormai gli articoli si sommano uno sull'altro e non si giunge mai alla fine sono ben 120 le ditte interessate a questi lavori per completare appunto la ristrutturazione la nuova funzione del vecchio palace il fronte progettuale affidato agli ingegneri rosato e santi verificatori all'opera sull'appalto da 3,5 milioni di euro solo dopo la consegna dell'attuale cantiere verrà avviata la gara con 10 aziende estratte e poi una bella notizia palazzo Perticari concede il bis dopo il successo ottenuto durante la giornata del FAE di autunno ora si replica si replica domeni sabato e domenica prossima nuove iniziative dopo la grande affluenza sono tanti cittadini pesaresi che intendono entrare in questo palazzo che è stato chiuso con lavori in corso per anni in pieno corso 11 febbraio e stasera sarà aperta in esclusiva per i commercianti del corso questa è una concessione della famiglia signoretti ebbene sabato 22 e domenica 23 ottobre con orari dalle 10 alle 13 dalle 15 alle 18 palazzo Perticari aprirà di nuovo le sue porte gli ingressi previsti per ogni gruppo composto da un massimo di 25 persone sono i seguenti sabato ore 10 10 45 11 30 12 15 poi 15 15 45 16 30 17 15 15 questi sono gli orari che vengono appunto concessi per la visita invece domenica si apriranno le porte alle 10 la visita si concluderà alle 10 45 poi un altro gruppo entrerà alle 11 30 fino alle 12 15 nel pomeriggio alle 15 15 scusate le 15 poi le 15 45 e poi 16 30 17 15 le visite sono prenotabili fino ad esaurimento dei posti occorre fare presto perché questi si chiudono in un battibaleno telefonando al numero 07 21 26 773 07 21 26 773 oggi domani dalle 9 alle 18 quindi chi vuole andare può prenotare questo questa visita ambulanze ecco i soldi bloccati dalla burocrazia una fumata bianca finalmente sui pagamenti arretrati per centinaia di migliaia di euro a tutti coloro che erano in servizio nelle ambulanze e aspettavano il loro stipendio con quale devono andare avanti per condurre le loro famiglie si è risolta finalmente nella giornata di ieri una situazione che stava mettendo in fortissima crisi tutto il sistema del soccorso di pesaro e anche della provincia perché poi le ambulanze escono fuori dai confini comunali arretrati di pagamento da parte dell'asur per soliti intoppi burocratici per cui queste associazioni che gestiscono il servizio dovevano ancora ricevere i soldi dell'ultima parte addirittura del 2019 ed avevano anche difficoltà nell'erogazione degli stipendi al personale finalmente la situazione si è risolta e poi sui giornali si parla ancora del natale low cost gabice riduce le luminarie il comune ha deciso di prevedere un'installazione in ogni piazzetta con orari di accensione ridotti ma l'atmosfera dice non mancherà sarà ugualmente un'atmosfera natalizia e speriamo veramente che sia così vediamo ora il corriere adriatico l'apertura è dedicata apertura di fano è dedicata eccola qua è dedicata all'arzilla perché ieri il sindaco massimo seri insieme all'assessore brunori sono di nuovi intervenuti per la cura e la manutenzione di questo torrente che spesso fa i capricci diventa anche pericoloso dopo che lo stesso argomento è stato è stato dibattuto in consiglio regionale grazie all'interpellanze di marta ruggeri del movimento 5 stelle e di luca serfilippi della lega a zilla è difficile programmare per le competenze frammentate un po spetta al comune un po spetta al consorzio di bonifica un po spetta alla regione insomma occorre veramente che sia un ente unico che sovraintenda al tutto perché poi magari uno pensa che lo faccia l'altro l'altro non lo fa perché poi crede che non sia di sua competenza il pezzo non mi appartiene eccetera insomma ci sono dei problemi di carattere burocratico ancora che oggi rendono difficile la cura e la manutenzione del torrente un torrente che al momento è invaso dalla vegetazione ci sono degli interventi in corso ma sono minimi e secondo appunto l'amministrazione comunale dovrebbe essere la regione a sovraintendere il tutto e prendisi in cura l'aspetto idrografico di tutto il territorio poi fondi la corsa contro il tempo in teatro giù i consumi del 30 per cento si fa anche qui si parla dell'efficientamento energetico del teatro della fortuna è stato ieri presentato il bando di gara lavori entro il settembre del 2023 parte di quali staranno finanziati con il pnrr ma altre poi c'è un'aggiunta del bilancio delle comune e poi vediamo qui l'episodio della violenza sessuale 40 mila euro di risarcimento le richieste della vittima e di james nova parti civili in tribunale insomma una vicenda che viene ripercorsa di fronte al giudice emergenza si perde tempo l'infermiere viene da casa ebbene il servizio di pronto soccorso tramite ambulanza fossombrone e come in tutto un po l'entroterra ha qualche problema qualche poi è un efemismo la segnalazione degli operatori su una nuova postazione di soccorso di orciano il sistema emergenza urgenza dell'entroterra continua a destare forti perplessità samuele giancarli che è un infermiere a fano sottolinea la scarsa immediatezza del servizio perché svolta da operatori che non si trovano sul mezzo quando parte la richiesta di aiuto ma si trovano nella propria abitazione quindi loro devono raggiungere il mezzo poi il mezzo deve partire deve raggiungere la località da cui giunge l'appello insomma c'è si perde molto tempo e sappiamo quando capitano degli infortuni vedi per esempio l'infarto gli ictus eccetera come il tempo sia prezioso per prestare soccorso ebbene qui bisogna correre veramente ai ripari poi a fondo pagina si parla del premio della fortuna d'oro il premio che dopo i due anni di vacanza tra virgolette a causa della pandemia il comune di fano intende attribuire ai suoi cittadini benemeriti per quanto riguarda il 2020 e il 2021 saranno quindi due i premi e per questo si è costituita una commissione che rappresenta vari aspetti della città ma anche sul sito del comune si è pubblicato un invito a tutti i cittadini di fare le loro proposte queste poi saranno valutate dalla commissione e verranno premiati i due cittadini benemeriti con la fortuna d'oro che è il simbolo della città per quanto fatto per la promozione della nostra fano niente aiuti aumenta la sfiducia la burocrazia ora ci penalizza e questa è la reazione degli alluvionati alla mancanza di contributi immediati per auto materiali e attrezzature e concludiamo la nostra rassegna stampa con una notizia di sport purtroppo non bella errori e panchina corta la visse cade ancora vi spesano 0 lucchese e 1 e questo lo sconsolanto risultato ottenuto dall'ultima partita e questo è tutto per il momento vi do appuntamento alle 7 di domani mattina e intanto vi auguro buona giornata